Questa mattina, presso la Corte d'Assise del Tribunale di Ravenna, è iniziato il processo per l'omicidio di Elisa Bravi, la donna dei 31 anni, uccisa nella notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2019, nella sua casa a glorie di Bagnacavallo. Secondo l'accusa, chi ha commesso l'omicidio è Riccardo Pondi, marito 39enne della vittima e padre delle due figlie della coppia, che all'epoca dei fatti avevano 4 e 6 anni. Pondi, sempre secondo l'accusa, la sera di quel 18 dicembre avrebbe strangolato la moglie in casa a seguito di una litte, mentre le due figlie stavano dormendo nelle proprie camere da letto. Secondo la ricostruzione dei fatti, lo stesso Pondi, dopo essersi avventato su Elisa, ha chiamato i soccorsi e ha cercato di rianimare la moglie, ma purtroppo per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Riccardo Pondi, durante l'interrogatorio, si è dichiarato colpevole ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La difesa chiese per Pondi, durante l'udienza preliminare tenutasi il 6 novembre 2020, il rito abbreviato che avrebbe ridotto la pena di un terzo, richiesta respinta dalla Corte Costituzionale, poiché l'uomo presente questa mattina in aula rischia la condanna all'ergastolo. La famiglia di Elisa si è costituita parte civile nel processo, insieme ad alcune associazioni femminili, all'associazione dalla parte dei minori e al comune di Bagnacavallo.